Atletico Real contro Papu per l'ottava giornata nella Champions Cup Amatori Elite categoria Serie B, grande attesa per l'Atletico Real che dopo la sconfitta contro gli Dogs può cucirsi mezzo scudetto sul petto, la formazione di casa parte benissimo col vantaggio realizzato da Trudu ma la risposta del rosa nero è immediata, il gol viene realizzato da Bindi, poi Sarrizzu prende confidenza con la porta anche se come al solito non è fortunatissimo, qui pinna bravo su Trudu ma l'attaccante rimane in possesso di palla e la gira in porta, 2-1 per l'Atletico Real, il Papu non sta a guardare, qui Raffone Coriaceo non riesce però a trovare lo specchio della porta, ci riesce Michael Sarrizzu, per lui secondo montante di serata, qui guardate che bellezza la punizione di Stefano Bindi e così alla futura è nuovamente parità prima del duplice fischio Garcia aiutato anche dal palo evita il terzo gol personale di Stefano Bindi e così a riposo si va sul seguente parziale, Atletico Real 2, Papu FC 2, nella ripresa la formazione di Francesco Mura in prime, subito grande carattere sul match, il primo tentativo della squadra padrona di casa lo stiamo osservando in questo momento con Daniel Pinna costretto agli straordinari, nulla da fare invece per l'estremo difensore in questa circostanza con Trudu che va a realizzare il 3-2 ma soprattutto la tripletta personale, serata da non dimenticare per il pivot della formazione di casa, arriva il quarto gol che chiude definitivamente la parità realizzata da Sarrizzu quindi con un Papu in estrema difficoltà nel finale arriverà anche il quinto gol, lo stiamo osservando realizzato da patron Francesco Mura finisce così Atletico Real batte Papu 5-2